E ora parliamo di una nuova figura professionale, ma soprattutto dell'impegno dell'Università della Calabria a formare figure professionali, sempre più al passo con le nuove esigenze, perché la legislazione italiana attualmente vigente dispone l'obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni e le aziende a partecipazione pubblica di due specifiche figure professionali. Parliamo del responsabile della gestione documentale e il conservatore dei documenti digitali. Noi ne parliamo con il professor Roberto Guarasci, che è proprio l'ordinario di documentazione all'Unical e poi ci fa l'onore di essere qui il magnifico rettore dell'Università della Calabria, Gino Miro Clecrisci. Buongiorno, ben arrivato anche a lei. Allora io partirei dal professore, proprio per chiedere queste due figure, responsabile di gestione documentale e conservazione di documenti digitali. Sono due figure ormai previste, lo sono per legge dal 2001 e dell'altra dal 2005. Di cosa si tratta? Ce lo spiega in termini molto semplici. Sono professionisti con una specifica formazione universitaria e quella a cui lei faceva accenno è giustamente un dato importante. Noi abbiamo istituito l'unica laurea italiana capace di rilasciare il titolo che abilita all'esercizio di queste due professioni. Questo per vari motivi. Fino ad oggi non mancavano i decreti attuativi fino al 2013, quindi era di fatto prematuro, impossibile costruire le figure professionali. Nonostante fossero obbligatorie, quindi noi abbiamo per un lungo periodo importato queste figure professionali da altri paesi europei. Ora siamo in grado di formarle. Sono professionisti che si occupano di gestire e conservare i documenti che nascono digitali, che noi rischiamo altrimenti di perdere, ma quel che è importante sono figure obbligatorie. Quindi le pubbliche amministrazioni, in un lasso di tempo molto breve, devono obbligatoriamente dotarsene. Quindi laurea con grandi capacità e possibilità occupazionali spedibile su tutti i territori nazionali. Ecco, io chiedo infatti proprio al rettore, questo deve fare d'altra parte l'università, oltre appunto a formare, oltre a creare cultura, proprio per non essere lontana, così come si dice a volte, ecco, troppo lontana dalla società, cercare di intercettare quali sono i bisogni, anche da un punto di vista lavorativo. Quindi l'unica in questo, bravissima, perché è la prima università che fa questo tipo di formazione. Certo, l'unica si pone, e stai molto attento a quello che succede intorno, infatti lo posso anticipare, per l'anno prossimo certamente attiveremo qualcosa che andrà a incidere pesantemente nel settore agroalimentare. Noi siamo in una realtà molto attiva, devo dire. Mi ha fatto molto piacere, vorrei ricordarlo in questo momento, quando è venuto in regione il Presidente della Repubblica, degli interventi fatti da tutte le autorità calabrese, hanno messo tutti e tre in evidenza l'importanza e il ruolo che può avere l'università per lo sviluppo economico di questa ragione. Questo ci ha fatto molto piacere, perché dimostra che il nostro messaggio comincia a essere recepito, il rapporto finalmente dell'università con il territorio, anche con le strutture politiche, regionali, va abbastanza bene e siamo ottimisti. Voglio solo aggiungere qualcosa. Siccome purtroppo il sistema universitario nazionale è messo sotto pressione, incredibilmente non capiamo perché. Il 21 marzo, voglio dire, attiveremo in tutte le università italiane, e spero poi anche con il vostro contributo, quello che chiamo io la giornata dell'orgoglio universitario, per far capire a tutti i cittadini italiani, nel nostro caso a quelli calabresi, che continuare a trattare male il sistema universitario, come sta avvenendo, è una perdita secca. Non si capisce poi, quando avranno ucciso il sistema universitario, la nazione che cosa ci va a dare. Lei ricordava appunto le parole del Presidente della Repubblica, lei diceva tutti gli interventi, però se ci sarà questa giornata del 21 marzo, evidentemente uno scollamento tra l'università, la società e la politica si avverte. Sì, ma bisogna vedere dov'è il problema. Faremo il 21, faremo un'indagine anche su questo. Secondo lei c'è stata da parte della politica una sorta di delegittimazione? No, io direi che il sistema universitario italiano, come tutti i sistemi, non è esente da colpe, non ho metto a dubbio, però quello che non capisco è l'intervento drastico su tutti i sistemi. Invece bisogna andare a vedere il caso per caso. Alcuni casi, secondo me, bisogna intervenire pesantemente, altri casi vanno molto bene. Quando si fa, per esempio, un taglio di risorse trasversali, prende il caso della nostra università, una università attiva, in piena crescita. Dovamo intercettare ancora tutti quegli studenti che purtroppo ancora, dopo che si sono diplomati, vanno fuori regione. Eravamo pronti a farlo, improvvisamente si decide di fare un taglio per tutte le università dei finanziamenti. Lei dice giustamente che questi tagli indiscriminati e lineari ovviamente vengono a danneggiare un po' tutti. Torno al professor Guarasci. Questa figura ovviamente si inserisce in quella più ampia che viene definita con un anglismo il knowledge management, cioè appunto la gestione di quella che è la conoscenza in generale. Quanto serve questa figura? Finora siamo stati appunto abituati a una documentazione cartacea, ora ci dobbiamo spostare su altro proprio perché la paura è proprio la perdita di memoria. Stamattina abbiamo incominciato con la giornata della memoria, la memoria delle foibe. la perdita di memoria in quanto cultura diventa veramente un problema. Lei ha perfettamente ragione. Noi abbiamo una legislazione estremamente avanzata da questo punto di vista che ha spinto e continua a spingere soggetti pubblici e privati a costruire documenti esclusivamente in digitale. Basti pensare alle fatture, ormai tutte le pubbliche amministrazioni gestiono fatture in digitale. Purtroppo non c'è una pari sensibilità verso la conservazione di questa memoria, quindi noi rischiamo di avere un lungo periodo della nostra storia se non interveniamo immediatamente priva di memoria. Perché la disperdiamo? Perché la conserviamo male? Perché non avendo professionisti capaci di vedere i pregi, i difetti, i rischi di questa operazione rischiamo di non riuscire più a recuperarla. Ma questo avviene già ora. Noi abbiamo documentazione di alcuni periodi della nostra storia recente che se non hanno l'equivalente cartaceo perché l'obbligatorietà del digitale è abbastanza recente, noi non l'avremo più recuperata. Assolutamente. Senta, è una figura professionale squisitamente umanistica o c'è anche dello scientifico, insomma comunque del sapere scientifico? È una figura professionale che diciamo inizia competenze di tipo tecnologico, quindi praticamente informatiche, competenze di tipo umanistico e documentale. Difatti nasce a cavallo di competenze documentali e delle competenze informatiche dell'Università della Calabria. È una figura professionale che però diciamo alla quale si accede come laurea magistrale con qualunque formazione di base perché diciamo le competenze tecnologiche sono viste in funzione delle specificità documentali che la figura richiede. Io vorrei chiedere ancora al magnifico Rettore, abbiamo parlato del rapporto con la politica ma anche in virtù dei nuovi piani operativi regionali, dei fondi che stanno arrivando, io le chiedo brevemente cosa vi aspettate ancora dalla politica, cosa vi augurate più che aspettate? Noi ci aspettiamo qualcosa di buono perché un'altra cosa la bisogna considerare. Noi viviamo in una regione che è economicamente difficile. Lo Stato, appunto, dicevamo con i tagli che sta facendo, ci sta penalizzando. Speriamo che la regione, però i segnali sono tutti in questa direzione, ci dia una mano a te la mando, soprattutto alle progettualità nuove quale questa laurea che dicevamo ora, che è una laurea veramente interessante perché unisce il mondo tecnologico al mondo umanistico, è veramente una cosa estremamente innovativa, ma ne abbiamo altre. Attiveremo un corso di laurea in restauro vero, cioè alla fine chi uscirà da questa laurea a ciclo 1, non lo sa detto, cioè dura 5 anni, sarà un restauratore vero. Vero. E ne attiviamo altre. Noi siamo in moto. Io sono abbastanza ottimista perché per la prima volta non c'è una contrapposizione fra enti regionali. sono abbastanza ottimista. E' una buona notizia anche per noi e noi ringraziamo il rettore dell'Università della Calabria, Gino Mirokle Crisci, ringraziamo il professor Roberto Guaraci, ordinario di documentazione presso l'Unical, buon lavoro e ovviamente il vostro lavoro farà bene a tutti, farà bene alla Calabria, farà bene ai nostri giovani, ai nostri figli. E noi invece domani mattina alle 7 e mezza con l'informazione alle 14 su Rai3. Grazie per aver incominciato la giornata insieme. Arrivederci.